Numeri, formule, sistemi. Il mondo di internet ci ha semplificato la vita ma nello stesso tempo ha messo allo scoperto tante fragilità che rischiano di esporre i nostri dati più sensibili o le attività produttive a giochi di potere e ai ricatti di hacker senza scrupoli. Da tempo Marco Rocchetto e l'azienda che ha cofondato si occupano di sicurezza informatica. La cyber security è importante perché sia a carattere nazionale, quindi a livello di difesa, ma è anche a carattere di garantire proprietà importanti come la privacy e la sicurezza anche proprio delle persone che si muovono nel web. Quindi la sua importanza è strategica per permettere la libertà di espressione e anche di utilizzo dei mezzi informatici. La fragilità maggiore secondo me si declina in tre assi. La prima è la comprensione, cioè essendo un problema aperto di cui noi vediamo tutti i giorni le conseguenze, la prima cosa è la cultura, l'educazione, riuscire a capire che cos'è, quindi l'educazione dell'insegnante che deve riuscire a comprendere il problema nella sua completezza, nei suoi fondamenti per poterlo spiegare. La seconda è sicuramente una problematica a livello di mercato, cioè la mancanza iniziale di questa comprensione fa sì che i sistemi vengano creati intrinsecamente insicuri e di conseguenza a livello di mercato si crea un enorme problema, perché ci sono persone che perdono soldi, business che si fermano, persone che invece investono troppi soldi rispetto a quello che è il problema, non si sa esattamente come fare, quindi a livello di mercato. E qui diciamo si vede infatti la grossa richiesta di consulenza a livello di cyber security. E la terza cosa è quella di riuscire poi a colmare questi due. Di questi giorni la notizia dell'istituzione dell'Agenzia Nazionale per la Cyber Sicurezza che prevede il coordinamento di 800 dipendenti. Sicuramente si vede che qualcosa sta cambiando, quindi da avere il Cini Cyber Security National Lab, adesso abbiamo nuove agenzie che si creano, si è visto anche e soprattutto nell'ultimo anno e mezzo o due, il popolarsi di queste agenzie, di questi uffici o comunque un'attenzione più specifica nella cyber anche legata ad aspetti per esempio che sono di pura sicurezza e non di cyber sicurezza, quindi sicurezza nazionale. Quindi sì, qualcosa sta cambiando. Rimangono secondo me ancora scoperti alcuni nodi, per esempio chiunque lavori sulla cyber security lavora potenzialmente su un ambito che potrebbe produrre delle armi, perché ricordiamo che la cyber security ha un'importanza anche a livello militare. Grazie a tutti.